Buongiorno a tutti. Emile Zola, nel suo articolo più famoso, scrisse «È un delitto sfruttare il patriottismo ai fini dell'odio». E questa frase ci permette di comprendere molti elementi della contraddittoria situazione politica, sociale e anche militare della Terza Repubblica Francese. E questo ci porta poi a capire ancora meglio il film di cui parliamo oggi, ossia «Orizzonti di gloria» di Stanley Kubrick del 1957. La pellicola è la quarta di Stanley Kubrick. Kubrick ancora non aveva, non era ancora Kubrick il regista famoso che conosciamo tutti oggi, però aveva già fatto delle pellicole molto interessanti, appunto che gli permisero, gli dettero quel credito necessario, quella competenza necessaria per arrivare a questo film che probabilmente è il primo suo grande capolavoro di una lunga serie. Di una lunga serie in cui avrebbe trattato anche il tema della guerra in varie fasi storiche. Su questo non ci torno, visto che ne abbiamo parlato già, parlando di Full Metal Jacket e di il Dottor Stranamore. Quindi se avete interesse andate a vedere anche questi due video. Per la sceneggiatura di questa pellicola, che è incentrata sulla Prima Guerra Mondiale, si è partiti da un romanzo, romanzo di Humphrey Cobb, tratto da una storia vera, ovviamente sceneggiato, ovviamente sistemato, visto che c'erano notevoli problemi anche a livello produttivo. Kubrick arrivò in un secondo momento rispetto alla decisione di fare questo tipo di film, diede un contributo molto molto valido nella definizione e anche nella scelta del soggetto, perché appunto vi era l'idea di fare un film contro la guerra, parlando di Prima Guerra Mondiale, ma non si avevano poi tutti gli elementi per costruire una storia efficace e che potesse creare anche al contempo un maggiore impatto a livello di pubblico e minor critica possibile. Perché? Perché ovviamente ogni film è anche un prodotto commerciale che va comunque venduto e di conseguenza vanno anche rispettate alcune regole affinché il film venga accettato dal pubblico. Questo però in realtà non venne poi seguito, perché a seguito di una sorta di rimpallo tra la Metro Goldwyn Mayer e la United Artists per la produzione del film, si intromise tra l'altro Kirk Douglas, già affermato attore che si innamorò di questa pellicola e di conseguenza partecipò anche come produttore alla realizzazione del film. Lui che poi tra l'altro sarebbe stato anche l'attore protagonista. Dicevo, quindi senza voler entrare troppo nei dettagli dell'evoluzione produttiva, perché poi è interessante però potrebbe toglierci del tempo, venne comunque deciso di fare un film in bianco e nero che potesse veramente anche attraverso una grandissima capacità di fotografia di rappresentare le ambientazioni della Prima Guerra Mondiale e della trincea, ma non solo, e poi comunque vennero mantenute dei temi molto forti e questo, come dicevo, si cercò in qualche modo di conciliare, ma alla fine non si riuscì a conciliare, tant'è che la pellicola creò un enorme scandalo, in Francia sarebbe stata vietata fino al 1975, in altri paesi ebbe anche delle noie, anche per esempio in Spagna venne distribuita solo nei primi anni Ottanta, se non vado errato, dopo diversi anni dalla morte di Franco, perché comunque era un'accusa, anche nei confronti degli ambienti militari, di un certo sistema di pensiero militare, in Germania ebbero dei limiti, proprio perché in quel momento, siamo al 57, c'era il discorso anche del riarmo tedesco all'interno della Nato, quindi con un certo tipo di collocazione anche politico-diplomatica, e infine anche in Belgio e in Svizzera ebbero delle notevoli limitazioni proprio per le relazioni diplomatiche che vi erano allora con la Francia. Quindi partiamo già con un rischio molto grande che la produzione e lo stesso Kubrick si sono assunti nella realizzazione di questo film. Questo film è il primo di una lunga serie di capolavori di Kubrick e già in questo emergono molti elementi tipici del regista, ossia la capacità di illustrare con delle immagini, con delle sequenze veramente coinvolgenti, in cui la prospettiva ma anche l'abbinamento del suono, del suono dei rumori, delle musiche, delle ambientazioni, creano tutto un tutt'uno all'interno di un certo filone narrativo. La storia narra essenzialmente di due generali che in maniera abbastanza subdola definiscono un piano impossibile per mero interesse di carriera, per mera ambizione delle proprie personali, un piano impossibile, una missione impossibile, l'attacco verso il cosiddetto formicaio, una posizione difesa benissimo i tedeschi, tra l'altro i tedeschi che non si vedono mai, quindi anche un nemico indistinto. L'azione ha un inevitabile insuccesso e di conseguenza bisogna trovare un caprio espiatorio che vengono identificati in tre militari scelti più o meno a sorte per un processo, da cui difesa si fa carico lo stesso colonnello del reggimento che aveva avversato inizialmente la fattibilità di questa operazione. E quindi il film si sviluppa attraverso questa ambizione eccessiva di questo attacco e della fine dell'inevitabile processo di cui non vi dico lo sviluppo, l'esito, tra l'altro il finale venne molte volte rimaneggiato a livello di sceneggiatura perché si voleva inizialmente di lasciarlo un po' più ottimista, in realtà poi lo stesso Douglas decise di farlo molto più cupo e quindi anche l'elemento di dramma si va un po' più a evolvere fino a un finale, a un finale molto più, tra virgolette, rassicurante, l'ultima scena in cui tra l'altro vi è l'unica attrice femminile interpretata tra l'altro, l'ultimo ruolo femminile interpretata da Susanna Christian che poi diventerà pure moglie di Stanley Kubrick dove vi è un ritorno di umanità. Io nel video su Full Metal Jacket in cui c'era la scena finale con la musica di Topolino ho accostato quel finale con quello di Orizzonti di Gloria, ecco secondo me sono due elementi molto simili tra di loro in cui gli orroi della guerra poi portano i soldati a in qualche modo tornare alla propria umanità, quindi visto che la guerra, la trincea, tutte le situazioni devastanti del conflitto hanno in qualche modo disumanizzato i caratteri umani in questi finali, nonostante poi Kubrick non dia mai una risposta, Kubrick è molto asettico in questo, lancia una serie di provocazioni, lancia una serie di spunti, di riflessioni che poi è lo stesso spettatore che ha modo di declinare, di interpretare a suo modo. Sotto l'aspetto stilistico ci sono delle grandi capacità molto ambiziose, di grande anche rischio scenico, vi è la contrapposizione molto forte tra la trincea, anche a livello sociale vi è un gioco anche di ceti dove c'è la trincea, luogo dei contadini, della popolazione appunto comune dei soldati che hanno una nuova restrazione dalla bassa società, e invece il castello dove è imponente, lussureggiante, dove appunto vi è i fasti più ampi appunto che vengono anche declinati nella condizione dei generali, del loro manipolare le vite degli altri appunto come se fosse appunto un gioco. E quindi da questo punto di vista è molto interessante anche questo, tra l'altro le scene, i set vennero fatti essenzialmente in Germania, appunto anche il castello, Kubrick affittò un terreno da parte di un contadino in cui poteva farci un po' quello che gli pare, venne fatto uno sforzo produttivo anche di esplosioni, cercando sempre, Kubrick l'abbiamo detto era un maniaco, quindi fece delle scene anche 20-30 volte per cercare di trovare la perfezione, gli attori erano soggetti a dei ritmi in calzante un altro, uno dei tre attori che interpretano gli imputati, a un certo punto è quasi ammattito, ha finto un rapimento, che poi fu anche cacciato dal set e si dovette ripiegare su una controfigura per finire le scene in cui il suo personaggio era presente, quindi da questo punto di vista ha anche una sua valenza molto molto ampia a livello coreografico e quindi da questo punto di vista mi preme presentarvi questo film come una pellicola, una narrazione molto complessa, molto complessa ma anche molto lineare nel suo andamento in cui vi è uno scavo psicologico, uno scavo anche dell'analisi del fenomeno guerra perché poi alla fine, questo è un elemento interessante, voglio leggere una piccola frase del generale, quello forse un po' più, quello superiore di grado che ha una connotazione ancora più ambigua, che dice, ah no scusate da quest'altra parte, troppi troppi riferimenti, poi me leggo pure quell'altro, appunto il generale Broulard che dice al colonnello Dax, lei è un idealista, io la compiango nel senso che appunto un generale che possa definire un idealista, un colonnello, dovrebbe avere degli ideali anche il generale per portare un senso patriottico, invece in realtà era solo, potesse indossare qualsiasi uniforme, l'importante è che faceva carriera, quindi da questo punto di vista vi è anche un'accusa non tanto in questo caso alla Francia, la Francia si sentì offesa, ma proprio alla componente di una certa ufficialità autoreferenziale che gestiva le vite umane come meglio potesse credere, e questo si apre anche al discorso della giustizia, del problema della giustizia nella prima guerra mondiale che ovviamente esula da questa possibile recensione, comunque è un elemento che emerge nel film. E io finisco con un'altra citazione in questo caso del colonnello Dax, che appunto si occupa della difesa di questi tre sciacurati, che tra l'altro uno verrà anche accolto da un atto di malore, perché appunto impazzisce anche lui, quindi verrà, non vi dico, fine comunque, mi fregate con il racconto, comunque si troverà incosciente e verrà appunto anche una cosa un po' gruttesca nella gestione di un poveraccio che tra l'altro è pure incosciente, quindi volergli fare un supplizio sopra a un altro supplizio. Quindi la frase di Dax che è un atto di accusa contro una società corrotta, corrotta moralmente, e qui Dax dice signori della corte, vi sono occasioni nelle quali mi vergogno di appartenere al genere umano e questa è una di quelle. Ecco quindi come rappresenta veramente un'accusa, una denuncia nei confronti non dei soldati, non dell'esercito, non della Francia, ma proprio della concezione umana del comando autoreferenziale. Questo poi viene un po' declinato in molte altre pellicole di Kubrick, ma non solo, quindi dove l'oppressione delle categorie superiori che sono calate da Dio, da chi altro, che vogliono per forza imporre agli altri e scaricare anche su degli altri le proprie responsabilità e le proprie colpe. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione che rivolgete ai miei video, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao!